Io sono sicuro che stiamo facendo di tutto per aiutare gli italiani a stare meglio e quindi spero che l'Europa assecondi questa nostra volontà. Ma ormai se ne parla nel passaggio al Senato della manovra? Beh, Camera e Senato, siamo una Repubblica parlamentare fortunatamente, quindi deputati e senatori stanno lavorando anche in queste ore per migliorare la manovra. Già la Camera? Già la Camera. Quindi lei è fiducioso nel trovare un accordo? Assolutamente ottimista. Grazie. Ministro, lei viene giovedì al Consiglio a fare interno.